12 anni fa non era ancora nessuno. Aveva appena realizzato un cortometraggio e decise di inviarlo soltanto a due festival, Cannes e Fano. Oggi Denis Villeneuve è uno dei registi più acclamati di Hollywood, autore visionario delle migliori pellicole di fantascienza degli ultimi anni. Basta questo a spiegare l'importanza del Fano Film Festival, passerella per i giovani talenti di oggi, in realtà i maestri di domani. Sabato 23 ottobre la 33esima edizione, una ventina le opere proiettate, tutte come sempre di altissima qualità. Cinema corto, cinema corto in abbondanza, c'è anche un lungometraggio perché abbiamo aperto un lungometraggio, però cinema corto al 99%, ovviamente fiction, animazione, documentari, spot, film d'arte, film provenienti dalle scuole in ogni ordine grado, questo è importante, pochissimi festival dedicano delle sezioni al cinema delle scuole, noi lo facciamo ormai da 33 anni e poi ovviamente tutto il resto, la qualità è altissima, la provenienza dei film sono da oltre 100 nazioni, oltre 1500 i film, ripeto, provenienti da tutto il mondo, è secondo me un festival internazionale a tutto tondo. Il tutto avverrà sabato 23 ottobre con proiezioni anche pomeridiane dalle 17 alle 19 e soprattutto anche dopo cena, ovviamente quando ci saranno proiezioni dei film vincitori e le premiazioni, le premiazioni. Tutto avverrà all'interno della Sala Verdi, annessa al Teatro della Fortuna di Fano, e quindi si va avanti lì per una giornata, diciamo, una giornatona, un pomeriggio dopo cena. Gli ospiti verranno tutti, saranno con noi, fa piacere, c'è una grande qualità, una grande qualità e autoriale e attoriale. Basti pensare che ha vinto Francesco Montanari come miglior attore, chi è Francesco Montanari? Francesco Montanari è un grande attore italiano, giovane, che ce lo ricordiamo tutti con l'interpretazione del libanese, il romanzo criminale. Poi c'è anche una giovanissima attrice, Ginevra Francesconi, diciottenne, appena compiuti, ma già bravissima, bravissima, che verrà, sarà presente lei con tutta la famiglia, una ragazzina, proprio una ragazzina, però brava, brava, brava. Per il secondo anno consecutivo la formula del Fano Film Festival è stata compressa in attesa di una vera normalità, anche se, come per ogni film che si rispetti, è già previsto un secondo tempo. È un secondo, dopo lo scorso anno, one short day, così, lo diciamo un po' anche ironicamente, insomma, ecco. La normalità per noi erano addirittura, quando le cose andavano bene, anche 8-10 serate, perché un festival internazionale è una serata, è, diciamo, fa un po' sorridere, insomma, no? Un pomeriggio, una serata, ecco, però l'accettiamo, l'accettiamo. Ci siamo riproposti di recuperare tutti i film vincitori, ecco, quando apriranno definitivamente tutte le sale cinematografiche di Fano, perché il luogo deputato del cinema è la sala cinematografica, ecco. Quando, per esempio, anche il Masetti, che se è in ristrutturazione, chiaramente sarà agibile, prima di Natale, ovviamente, rifaremo delle serate dedicate al Fano International Film Festival, no? ancora la 33esima edizione. Coincide anche questo momento, anche con la riapertura, col 100% dei posti, dei teatri, dei cinema, quindi un momento anche psicologicamente importante, che dà la sensazione di una ripresa, di un ritorno alla normalità. Detto questo, Fano Film Festival è un punto di riferimento del cortometraggio, lo è per le scuole, dove c'è una sezione molto importante, dove veramente ci sono tante adesioni e tanti lavori presentati. E c'è anche nella prima fascia, quella proprio a cui è dedicato il Fano Film Festival, che anche quest'anno ha visto tanti protagonisti e in qualche modo mi piace pensare che questo non avvenga in modo banale, ma non è un fiore che nasce nel deserto, ma in realtà è un fiore che nasce nel prato, perché c'è una forte sensibilità proprio della città, che ha visto anche tanti protagonisti della città stessa. E se mi piace pensare che Fano Film Festival sia stato un elemento che abbia contaminato la città anche in questo senso.